Buongiorno a tutti, siamo qui con il professor Bartolini dell'Università di Siena, professore di Economia Politica e Economia della Felicità. Ci siamo conosciuti di recente alla presentazione del suo libro, Il Manifesto per la Felicità, che ha presentato ad Arezzo. E niente, ci è venuta voglia di approfondire un attimo, anche di rendere questa lettura che ha fatto più conosciuta, perché in quell'occasione il professor Bartolini faceva un'analisi interessante. Lei diceva che i tre paesi che sono cresciuti economicamente, l'economia misurata con il PIL, negli ultimi 20-30 anni, che sono la Cina, l'India e gli Stati Uniti, i tre paesi occidentali. Sono i tre paesi dove, allo stesso modo, tutti i parametri soggettivi e oggettivi di felicità sono rimasti al palo oppure sono proprio declinati, è corretto? Sono proprio declinati, in particolare sono declinate le misure soggettive di felicità, che sono le risposte che la gente dà a domande su quanto è felice, quanto è soddisfatta la propria vita. E poi c'è stata letteralmente un'epidemia di malattie mentali, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, dove ovviamente le statistiche sono molto più abbondanti. Qualunque indicatore del benessere della gente, della felicità, è peggiorato. Le malattie mentali, in particolare ansia e depressione, hanno un andamento letteralmente epidemico, letteralmente un'epidemia. Del resto questo non è un fenomeno esclusivamente americano. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2030 la malattia più diffusa al mondo sarà la depressione. Più diffusa al mondo vuol dire più diffusa dell'influenza. In Cina è successa la stessa cosa, anzi il declino della felicità è ancora più marcato che negli Stati Uniti. Sto parlando dei 20 anni di sviluppo, di miracolo economico cinese, dal 1990 al 2007, fino all'inizio della crisi. In India ancora peggio che in Cina. Insomma, i miracoli economici più celebrati sia tra i paesi poveri, India e Cina, sia tra i paesi ricchi, gli Stati Uniti, sono tutti associati a un declino del benessere. E questo colpisce particolarmente, perché la retorica è sempre quella che la crescita economica porta al benessere. Bisognerebbe anche discutere come misuriamo il concetto di crescita economica e anche cosa intendiamo per il concetto di benessere? Crescita economica si intende l'aumento del prodotto interno lordo, che in pratica misura quello che si può comprare e si può vendere, quello che viene scambiato sul mercato. Il problema è che quello che viene scambiato sul mercato non è tutto quello che conta per la felicità, ci sono cose fondamentali, soprattutto i beni comuni. I più importanti sono la qualità delle relazioni tra le persone e la qualità dell'ambiente. Questi nessuno ce li vende, nessuno ci vende amicizie o amore, nessuno ci vende una qualità dell'aria più pulita nella città dove viviamo, eppure sono cose fondamentali per l'aria. Anche se in Cina stanno cominciando a vendere delle bombole di aria pulita, prese in montagna. In realtà il mercato produce tanti sostituti dei beni comuni, però sono sostituti di pessima qualità. Anche il sesso esiste a pagamento, ma non è la stessa cosa. Quindi in buona sostanza l'economia misura con questo indicatore e questo indicatore non comprende tanti fattori che ci rendono la vita degna di essere vissuta. Per esempio ci sono altri indicatori che cercano di misurare la felicità? Dicevi che ci sono indicatori oggettivi e soggettivi. Sì, gli indicatori soggettivi, tutti questi studi sulla felicità nascono proprio dalla scoperta della misurabilità della felicità. Ci sono varie misure affidabili. Ci sono misure soggettive, che sono risposte che la gente dà a domande su come si sente, su quanto è felice. Poi ci sono indicatori oggettivi. Prima menzionavo le malattie mentali, ma ci sono per esempio il tasso di suicidi è un indicatore potente dello stato di benessere di una comunità, anzi di malessere. Poi c'è tutto il mondo delle dipendenze. Viviamo in realtà nella società delle dipendenze, ce n'è un menu intero dal quale ognuno può scegliere la sua dipendenza preferita, dallo shopping, dal tabacco, dalle droghe legali, da quelle legali, dai videopoker, slot, gioco d'azzardo, calcio, tv. Abbiamo sviluppato una quantità di dipendenze enormi, anzi siamo proprio la società delle dipendenze e questi chiaramente non sono segni di benessere. Abbiamo un problema con la felicità che va oltre i casi estremi che ho menzionato, cioè quelli di crescita economica particolarmente rapida. In realtà questi problemi sono diffusi in tutti i paesi occidentali, anche se non in modo così estremo come negli Stati Uniti, ma insomma la strada che abbiamo preso non è… abbiamo un problema con la felicità. Quindi diciamo che in qualche modo gli Stati Uniti stanno rappresentando un po' l'avanguardia di quello che ci aspetta, lo schema è lo stesso, il sistema che stiamo applicando anche in Europa, forse in maniera più moderata per certi versi, è il medesimo. Sì, la strada che abbiamo preso è quella soprattutto perché cerchiamo di scimmiottare gli Stati Uniti in tutte le maniere, quello è il paese che per la maggior parte della retorica politica e sociale dominante in Europa è il paese da imitare, è l'esempio da seguire. In realtà i sintomi di crisi sociale di quel paese non hanno pari in Europa, è un paese in crisi sociale profondissima, soprattutto per quanto riguarda la determinante fondamentale della felicità della gente che è la qualità delle relazioni e lì e negli Stati Uniti quella è una società il cui tessuto connettivo si è disfatto. La solitudine negli ultimi 30 anni è diventata un problema di massa, riguarda letteralmente decine di milioni di americani, un americano su quattro dice di sentirsi socialmente isolato, 25% della popolazione, sono numeri pazzeschi che si sono sviluppati negli ultimi 30 anni, non era così 30 anni fa. Poi anche quelli che le relazioni ce l'hanno, ce l'hanno difficili, conflittuali, le famiglie sono diventate estremamente instabili, gli americani divorziano di più, si sposano di meno, convivono di meno, si separano di più, è una società che ha enormi problemi a generare relazioni stabili. I rapporti di amicizia si sono rare fatti, quelli di vicinato si sono liquefatti, anche i rapporti familiari sono diventati estremamente poveri, la fiducia tra gli americani è declinata, l'onestà, il comportamento civico, la partecipazione sociale, è tutto declinato. Un po' quello che diciamo anche noi del Movimento 5 Stelle quando parliamo di senso di comunità, si è disgregata la comunità. Questa è una cosa su cui il Movimento 5 Stelle insiste molto e fra l'altro mi pare un caso unico su questo nel panorama politico, quello che voi avete colto è che il declino della comunità e dei legami sociali è un enorme problema dal punto di vista del benessere e poi crea anche enormi problemi dal punto di vista dell'economia. e questo è un problema che va risolto e che si può risolvere, perché questa è una questione di scelte sociali e l'America quello che ci insegna è come fare a generare un deserto sociale attraverso scelte economiche e sociali che in America sono state compiute largamente a cominciare da 30 anni fa e che poi hanno prodotto tutto questo disastro. Ma come funziona esattamente? Nel senso, come non funziona questa associazione tra crescita economica, quindi più reddito, più denaro anche? Perché poi è legata in media a quello, più potere d'acquisto e più felicità. Perché non funziona questa correlazione? Non funziona perché l'America è l'esempio perfetto. Mentre l'America negli ultimi decenni si andava trasformando nel paradiso dell'opulenza consumistica, il consumatore più ricco del mondo, parallelamente la società americana si andava riducendo a un deserto sociale. Solitudine, rapporti difficili e conflittuali, questo è quello che pesa sulla felicità della gente. Gli studi sulla felicità hanno mostrato che non è che il denaro non conta, conta qualcosa dal punto di vista del benessere, soprattutto a bassi livelli di reddito. In sostanza la differenza grossa è tra arrivare a fine mese e non arrivare a fine mese. Chi non arriva a fine mese ha problemi di stress, ha problemi di malessere. Poi una volta che la gente arriva a fine mese, guadagnare di più non ha effetti sostanziali sulla felicità, sono effetti trascurabili, ma a livelli bassi di reddito la felicità conta, non molto. C'è ovviamente la sussistenza, la sopravvivenza, quindi un reddito che arriva fino a un certo valore, dopodiché quello che si guadagna oltre non aumenta così tanto la felicità o non l'aumenta appunto? L'aumenta in modo trascurabile, quando si passa alla classe media, tra essere di classe media e un po' più di classe media, non c'è proprio più differenza. Però dove è che i soldi non contano niente? Contano poco e a bassi livelli di reddito. Il problema è che quello che conta tanto per la felicità, e su questo convergono tutti gli studi sulla felicità, è la qualità delle relazioni tra le persone. Sono gli altri, se vuoi riassumere in due parole quello che rende la gente felice, le due parole sono gli altri. E' la cosa chiave. Quindi noi non possiamo essere felici se diveniamo sempre più ricchi, ma siamo nel contesto di un deserto sociale. Questo è quello che non funziona. E questo è quello che va evitato e, le ripeto, lo possiamo evitare. Sappiamo anche come fare. Sappiamo come fare a generare un deserto sociale, perché abbiamo molti esempi sotto gli occhi di come si fa, i più vicini a noi ovviamente sono gli Stati Uniti. e sappiamo anche quali altre strade seguire, perché è pieno di esperimenti di organizzazione economica e sociale che tendono a produrre una miglior qualità delle relazioni. Per esempio esperimenti di organizzazione urbana. Il modo in cui sono costruite e organizzate le città è fondamentale per creare tessuto sociale nelle città. Le città esistono da 5 mila anni e sono sempre state pensate come punto di aggregazione per la gente. Era un posto fatto per mettere insieme la gente, per creare relazioni. Il luogo simbolo, deputato a questo, era la piazza, il posto dove i cittadini di ogni rango si potevano incontrare. La Gora. La Gora, strade, piazze, sono gli spazi comuni dove si crea il tessuto sociale, finché però gli spazi comuni sono di buona qualità. Ora quello che è successo è che qualche decennio fa sono arrivate le macchine e hanno cambiato completamente 5 mila anni di storia urbana, perché hanno rovinato la qualità degli spazi comuni. Quando le strade e le piazze diventano puzzolenti, rumorose, inquinate, non sono più posti dove si intessano relazioni, dove ci si ferma a salutare un vicino, a scambiare 4 chiacchiere, dove la gente si conosce. Diventano posti dove la gente passa per andare da qualche altra parte, più rapidamente possibile, perché diventano luoghi sgradevoli. In questo modo si distrugge il tessuto sociale. Questo gli urbanisti lo sanno perfettamente, è pieno di esperimenti che mostrano questo. Quando pedonalizzi una zona, un quartiere, o gli crei ad esempio un parco, un giardino pubblico dove la gente possa andare e ovviamente tutto questo deve essere pedonale per funzionare, le relazioni all'interno del quartiere migliorano, si intessano più relazioni, la gente si fida di più, le attività di quartiere sono più partecipate e la felicità della gente aumenta nel quartiere. Quindi lo sappiamo benissimo come fare e ovviamente è pieno di esperimenti da questo. Perché spesso ci sono delle lamentele riguardo il fatto che si vende di meno, i negozi hanno meno clienti perché non si chiude il traffico, in alcune città ci sono state questo tipo di rimostranze. Io questo film l'ho già visto perché vivo a Firenze e Firenze fu la prima a pedonalizzare il centro tra le medio-grande città, lo fece negli anni 80, ci fu una rivolta alle commercianti, adesso ai commercianti se gli vai a togliere la ZTL sono capaci di scendere in piazza a protestare perché in realtà la ZTL ha funzionato perfettamente dal punto di vista commerciale, perché la gente ci va a passeggiare volentieri e facendo la passeggiata magari compra anche qualche cosa nei negozi. In realtà queste sono paure immotivate quando poi questi esperimenti li facciamo, funzionano perfettamente, sostengono la qualità della vita e sostengono anche il commercio. Anche perché l'alternativa sono questi megacentri commerciali dove si ricostruisce un po' l'ambiente della città alla fine, questi ormai stanno proliferando sempre più simili a delle vere e proprie cittadine, con le strade, con le aiguole. Ma pedonali però, il punto è questo, il motivo per cui in questa situazione i centri commerciali si sono trasformati realmente negli spazi di relazione, la gente ci va a passare il tempo libero, le famiglie ci vanno a passare le domeniche, ma il motivo di tutto questo è che sono pedonali, che una madre può lasciare la mano del bambino senza paura che il bambino finisca sotto una macchina. La motivazione chiave per cui questo è accaduto è la pedonalizzazione, la pedonalità del centro commerciale. Ma noi dovremmo avere, il problema è che come spazio relazionale non funziona bene un centro commerciale, perché c'è la pressione commerciale, che fra l'altro crea frustrazione in quelli che non possono comprare, e poi i commercianti non sono ovviamente molto interessati a mettere panchine dove la gente possa socializzare. Noi dovremmo avere tutto quello che i centri commerciali ci danno, ma all'aria aperta, con gli uccelli, con gli alberi, con le panchine e senza pressione commerciale. Quindi dicevi che una delle forme per cui possiamo instaurare una direzione differente è quella di ripensare le città dove abitiamo. Noi abbiamo per esempio, prima parlavamo di reddito, abbiamo presentato da tempo e supportiamo con forza l'idea del reddito di cittadinanza, cioè appunto l'idea di dare un reddito minimo garantito alle persone che sono in difficoltà in maniera da, per esempio, riaccendere anche un tessuto di consumo, perché anche in quel caso è una specie di vera e propria manovra economica, tu rimetti in moto i consumi, ma anche evitare un meccanismo di competizione a ribasso, perché nel momento in cui c'è un sistema che punta sempre ad abbassare il reddito delle persone, il fatto di avere una sticella un po' più alta di sopravvivenza che ti permette di non accettare qualsiasi cosa di non essere alla merced, diciamo di un sistema che cerca di schiacciarti. Come lo vedi la nostra proposta, come ti sembra? In economia abbiamo tanta evidenza sul fatto che questo tipo di provvedimenti effettivamente tendano ad aumentare i salari, proprio per il motivo che dici tu, che la gente non è più costretta ad accettare qualunque cosa perché ha un'alternativa in cui comunque sopravvive. Quindi dal punto di vista, mi sembra che uno dei vostri obiettivi sia quello di aumentare il livello dei salari che in effetti in Italia si sono compressi a livelli praticamente insostenibili e da questo punto di vista noi sappiamo che funziona. Ma noi siamo in una fase in cui, se dovessimo guardare la stessa analisi che è stata fatta negli Stati Uniti, per il quale sotto un certo reddito il quantitativo, il reddito conta nello status di felicità, nella percezione della felicità, mentre oltre conta di meno. Dal tuo punto di vista siamo sotto questo reddito in Italia mediamente? In Italia la povertà sia assoluta che relativa è enormemente aumentata dal 2007. Certo c'è tanta gente che sta sotto questo livello, c'è tanta gente che non arriva a fine mese o fa i salti mortali per arrivarci, tutto questo è stress, è fatica, sono vite difficili, certo dal punto di vista del benessere è molto importante tutto questo. Anche per creare una società meno diseguale, perché in Italia la disuguaglianza è aumentata molto rapidamente e questa non è la tradizione del nostro Paese, noi abbiamo sempre avuto una tradizione di, come nel resto tutta Europa, di disuguaglianze limitate e forte coesione sociale rispetto agli americani, per esempio tutto questo, la bassa disuguaglianza è quello relativamente agli Stati Uniti, è quello che garantisce in Europa e in particolare in Italia una criminalità molto più bassa rispetto a Paesi con alte disuguaglianze, vogliamo perdere tutto questo? Ma questo è l'Europa, è il vantaggio di vivere in un continente, di gente con una coesione sociale che sicuramente gli americani non possono nemmeno sognarsi, non possiamo perdere tutto questo, perdiamo l'anima, l'identità dell'Europa e il benessere europeo. Mi pare di aver capito che in buona sostanza ti stai dicendo che quando le persone cominciano a, ci si crea una società orientata al consumo e alla mercificazione, ogni cosa deve essere comprata, dove le persone per comprare qualsiasi servizio che magari era gratuito, dicevi prima una piazza, la socializzazione è un servizio gratuito, il fatto che tu lo riscontri soltanto in un centro commerciale significa che sei in un contesto di acquisti dove tutto è orientato all'acquisto con la possibilità di generare frustrazione se non puoi partecipare, se non hai la possibilità di comprare. Ma poi anche tutto il resto, l'aria pulita, un'acqua pulita in una città che ha degli spazi verdi dove posso fare una passeggiata, posso fare un bagno anche in un laghetto magari, ho dei servizi gratuiti della collettività, mentre se questo non c'è io devo andare in montagna, devo prendere un aereo e andare in un posto tropicale per vedere un mare bellissimo e devo acquistare altri servizi che potrebbero essere in una certa misura gratuiti e quindi devo lavorare di più. C'è un altro tema che mi pare di aver visto nel libro che era quello riguardo a lavorare troppo, un'analisi soprattutto degli Stati Uniti, mi ricordo un grafico che faceva vedere che in Europa il numero di ore lavorate rispetto agli Stati Uniti e c'è stata proprio una tendenza completamente opposta, in Europa abbiamo ridotto mentre negli Stati Uniti è aumentato. Sì, in realtà quello che dici è un fenomeno gigantesco, noi abbiamo creato intere industrie che sono basate sul degrado di quello che abbiamo in comune, l'ambiente è un ottimo esempio, se il mare che abbiamo vicino a casa diventa troppo inquinato per farci il bagno, dobbiamo comprare un biglietto per un paradiso tropicale per fare il bagno in un'acqua pulita, il biglietto per il paradiso tropicale costa, il mare vicino a casa no, è un bene comune ed è gratis. Le condizioni invivibili che abbiamo creato nelle nostre città hanno generato un'intera industria dell'evasione, chiamata industria delle vacanze, che in realtà è un'industria a cui la gente si rivolge massicciamente per staccare da condizioni sociali e ambientali che viviamo nelle nostre città che sono invivibili, anche condizioni sociali, gente incarognita, sempre arrabbiata, sapete benissimo com'è il traffico, se non parti a rosso dopo una frazione di secondo tutti ti offendano, da tutto questo ogni tanto abbiamo bisogno di evadere e l'industria delle vacanze è una grande industria dell'evasione. Poi abbiamo creato un'enorme industria della solitudine, a parte i cataloghi di mogli russe e ucraine che anche questi sono industria della solitudine, ma gli esempi più spettacolari riguardano per esempio, pensi alla vita degli anziani, fino a qualche decennio fa, parlo di anni 80 a Firenze per esempio, quando un anziano era solo e malandato se ne prendeva cura la gente del quartiere, qualcuno passava a fargli la spesa, qualcun altro passava a trovarlo, a scambiare quattro chiacchiere, adesso il tessuto sociale nei quartieri non c'è più, dobbiamo comprare una badante o mandarli in una casa di riposo, la casa di riposo e la badante costano, il tessuto sociale è gratis, pensi a com'è cambiata la vita dei bambini, io appartengo a una generazione cresciuta per la strada, noi andavamo a scuola elementare, tornavamo a mangiare a casa e passavamo tutto il pomeriggio per la strada con la banda di amici, con la gang, adesso i bambini crescano in casa, non possono più uscire perché le città sono diventate pericolose per il traffico e adesso crescono in solitudine, si è creato un problema di solitudine infantile gigantesco, i bambini stanno sempre in casa, hanno poche amicizie, sono totalmente dipendenti dai genitori, i genitori non li prendono, li mettono in una macchina, li portano a trovare qualcuno, a fare un po' di sport, questi bambini evidentemente davanti agli schermi, noi socializzavamo con le persone, loro adesso socializzano con gli schermi e fa parecchia differenza nella qualità della vita, nell'esperienza sociale e tutto questo ha creato un'infanzia molto più costosa perché per riempire il vuoto della loro solitudine, noi dobbiamo riempire la loro vita di giocattoli e poi hanno bisogno di sorveglianza questi bambini che non hanno più autonomia, tutte queste spese per babysitter che facciamo sono spese che compensano qualcosa che prima era comune era gratis, città vivibili per i bambini, abbiamo tolto spazi, abbiamo tolto tempo ai bambini perché lavorano sempre di più a scuola, non hanno più tempo per giocare e comunque non ne avrebbero gli spazi, in cambio gli abbiamo dato un sacco di giocattoli che è la cosa che meno gli serve perché i bambini giocano con qualunque cosa, quindi la qualità della vita dei bambini è drasticamente peggiorata e ha creato spese, adesso ti faccio un altro esempio ancora, adesso in Italia c'è un'epidemia di causa tra vicini di casa, prima la gente si parlava, si conosceva, magari si fidava pure, adesso non si conoscono più nemmeno nello stesso palazzo, se si devono parlare si parlano con l'avvocato, la fiducia e la conoscenza sono gratis, l'avvocato no, quello che sto dicendo è che il declino delle relazioni e il declino dell'ambiente che sono i beni comuni più importanti che abbiamo creano spese, creano la necessità di spendere, aumentano il PIL, si crea crescita economica, si creano industrie intere che in realtà compensano semplicemente la scomparsa progressiva di quei beni e quei servizi che ci davano le relazioni che avevamo e l'ambiente. Quindi di fatto stai dicendo che c'è proprio una correlazione inversa, cioè più c'è crescita economica e più oltre un certo livello e più tu hai meno felicità. Non è così automatico, dipende dal motivo per cui si cresce, se cresciamo perché questa è la risposta a un declino della qualità della vita, è esattamente come dici te, possiamo anche crescere per altri motivi, perché sono stati inventati i prodotti migliori che la gente vuole, perché è aumentata la produttività, in quel caso lì può funzionare meglio dal punto di vista del benessere, la crescita economica, non deve aumentare la disuguaglianza, la crescita economica, però deve avvenire in un contesto in cui non erode le relazioni tra le persone, in quel caso lì può funzionare meglio, il problema è che di questo non siamo consapevoli e quindi tendiamo a fare delle scelte economiche e sociali che distruggano le relazioni e che promuovono questo tipo di crescita, una crescita in cui i soldi, in cui diventiamo tutti più ricchi di soldi, ma diventiamo più poveri di cose importantissime come la qualità delle relazioni e la qualità dell'ambiente, questo ovviamente dal punto di vista del benessere non funziona e ne abbiamo vari esempi su scala gigantesca, India, Cina e Stati Uniti per esempio. In ogni caso il problema sono le scelte sociali che facciamo, io ho fatto l'esempio delle città, ma pensa all'esempio della scuola, la scuola è, noi sappiamo perfettamente che per avere buone relazioni c'è bisogno di un certo tipo di cultura, è una cultura non consumista, una cultura che dà peso alle relazioni, si chiama cultura post materialista. La nostra scuola crea esattamente il tipo di individui che tendono invece ad essere infelici e ad avere cattive relazioni, faccio un esempio, si comincia a 6 anni mettendo i bambini a sedere per 5 ore al giorno, cosa che trovate la parola, per me sta a metà tra torture e maltrattamento perché è ovviamente incompatibile con le esigenze fisiche di un bambino di 6 anni, il primo messaggio che questi bambini ricevono è tu non sei qui per star bene, produrre è una cosa, tu sei qui per produrre, per performare, produrre è una cosa, stare bene è un'altra cosa, hanno 6 anni, è il primo contatto che hanno con un'istituzione umana, interiorizzano profondamente questo messaggio e che li accompagnerà per il resto della loro vita, poi gli insegniamo un rapporto con il potere a scuola, gli insegniamo che loro sono esclusi da qualunque, gli studenti sono esclusi da qualunque decisione importante che li riguardi, che cosa studiare, in che tempo studiare, con quali ritmi, organizzazione degli spazi, orari, partecipazione non è una parola chiave della scuola e non è che questo non glielo chiediamo perché sono piccoli, perché le regole della scuola rimangono le stesse, dall'elementare fino ai dottorati, non cambiano assolutamente mai, poi gli insegniamo un rapporto con i pari che è la competizione, la scuola fa tutto per incentivare la competizione tra le persone, ma noi sappiamo dagli studi scientifici sull'argomento che questo non funziona nemmeno per migliorare gli standard, il rendimento scolastico, perché si pensa che più competizione aumenti il rendimento scolastico perché innesca un meccanismo di imitazione da parte di quelli che hanno risultati peggiori, che cercano di raggiungere gli standard dei migliori, in realtà gli studi sull'argomento dimostrano che quelli che hanno risultati peggiori tendono a sviluppare bassa autostima, pensano in sostanza di essere delle schiappe e questo li intrappola in un meccanismo di bassi voti, basso interesse per lo studio, basso rendimento per tutta la loro carriera scolastica, è una trappola questa qui, in realtà quello che dovremmo promuovere è la cooperazione tra la gente e questo sappiamo anche tra gli studenti, sappiamo anche perfettamente come farlo, il modello scolastico applicato prevalentemente in Nord Europa si chiama scuola partecipativa, sto parlando di scuole statali, quelle normali ed è molto diverso da quello che usiamo noi, è un modello basato sul lavoro di gruppo, prima di tutto, su un rapporto con l'insegnante in cui non è l'insegnante che fa le domande agli studenti, sono gli studenti che fanno le domande agli insegnanti perché devono portare avanti dei progetti, la relazione centrale in questo tipo di classi è tra gli studenti, non è tra l'insegnante e lo studente, questo tipo di scuola produce i migliori studenti del mondo perché nelle classifiche internazionali del rendimento scolastico, questi paesi del Nord Europa arrivano sempre i primi e produce molte più capacità cooperative e sociali da parte di questi studenti, quello che viene chiamato l'intelligenza emotiva, viene sviluppata anche l'intelligenza emotiva che è assolutamente cruciale per vivere bene, per avere persino successo nel lavoro e per far funzionare una società, una società di gente intelligente da un punto di vista cognitivo e stupida da un punto di vista emotivo, è una società che non funziona, è una società piena di conflitti in cui la gente non riesce a cooperare, quindi sappiamo perfettamente che cos'è che dobbiamo fare, perché abbiamo gli esempi realizzati, anche per le città abbiamo gli esempi realizzati. Gli esempi di città più in questa direzione? Basta andare a Amsterdam o a Copenhagen, quello che trovi sono città radicalmente chiuse al traffico, traffico privato praticamente non la puoi usare la macchina, 30% degli spostamenti urbani avviano in bicicletta, in città con inverni rigidi, tutto è organizzato per la bicicletta lì, tutto è fatto per la bici, è la priorità e poi il resto dei trasporti sono sui trasporti pubblici che sono efficientissimi e non è difficile fare trasporti pubblici efficienti se le città vengono svuotate dall'automobile, perché sono automobili che impediscono ai bus di circolare rapidamente, quindi si può fare ampie zone pedonali, verde, giardini pubblici dappertutto e in queste città basta andarci per notare che la gente è allegra, è molto socievole, c'è un bel clima sociale e funziona. A me è capitato di fare un corso universitario ad Arus in università e ho proprio notato una differenza abissale tra i corsi che ho fatto in Italia, al Politecnico di Torino e questo corso qua, perché c'era un rapporto molto più paritario, gli studenti facevano domande e mettevano in discussione quello che diceva il professore e c'era una sorta di dialogo e abituato a quello che ho visto, poi non sarà sempre così, insomma nell'università italiana il rapporto era completamente diverso e vedevi persone che avevano una maggiore autonomia nel senso, mentre da noi c'è questo rapporto quasi di sudditanza psicologica, tu vai dal professore, al massimo ti vuoi far vedere, fai la domanda per ringraziartelo, lì vedevi proprio un rapporto di dialogo continuo, di costruzione anche dell'idea volendo. E di partecipazione, è chiaro che questo tipo di scuola tende a costruire gente più autonoma, gente con un maggiore spirito critico, con un pensiero più indipendente e gente più creativa, su questo abbiamo numeri, è pieno di studi accademici, su questo abbiamo le statistiche, abbiamo le cifre, sappiamo perfettamente che funziona, in Italia si lamentano che i giovani sono mammoni e che è il nostro modo di dire che non hanno autonomia, ma con il tipo di sistema scolastico che abbiamo è anche difficile aiutare. Esatto, la parola creativa, persone più creative, questo mi sembra molto interessante, perché uno degli elementi che era emerso anche durante questo convegno che abbiamo fatto sul lavoro del futuro è che ci sarà meno occupazione, c'è un trend di diminuzione dei posti di lavoro per la robotizzazione, per una serie anche di altri fattori che ci dicono che c'è sempre più bisogno di lavori ad alta creatività, lavori che abbiano questa caratteristica meno operazionale, meno di routine, perché questi li possono fare sempre di più le macchine. e quindi c'è proprio da ristrutturare un modo con cui noi abbiamo creato la società, perché la nostra formazione forse era adatta, e forse lo scrivi anche nel libro se non ricordo male, era adatta a una società che si apriva verso un'era industriale, dove l'uomo diventava parte di un processo, uomo macchina, di un processo di produzione industriale e quindi forse andava bene, l'idea era quella che andasse bene, avere delle persone che dovevano fare qualcosa senza farsi troppe domande, senza troppa creatività, mentre adesso diventa completamente disfunzionale. Esattamente, guarda, sono molto diretto, la scuola è stata pensata, la scuola di Masso un secolo fa, ed è stata pensata per formare la classe operaia e abilità fondamentali della classe operaia sono quelle di capacità di annoiarsi e di obbedire, ed è questo che la scuola tende a sviluppare, è una scuola fatta per sviluppare la capacità di annoiarsi e di obbedire. Come dici te, siamo in un'era economica, ma non è che ci stiamo entrando, ci siamo già entrati, siamo già in un'era post-industriale, la chiamano economia della conoscenza, c'è una proliferazione di termini su questo, tutti indicano la stessa cosa, il fattore chiave per il successo degli individui e dei paesi interi, è diventata la creatività delle persone, quindi una scuola fatta come questa, che è fatta per distruggere lo spirito critico e la creatività della gente, non solo è un disastro dal punto di vista del benessere, ma anche dal punto di vista economico, i paesi che capiranno prima questa cosa e che orienteranno la loro scuola in direzione di sviluppare benessere, intelligenza emotiva, creatività, spirito critico, avranno un vantaggio economico gigantesco, ci sono già paesi che l'hanno capito, ti ripeto in Nord Europa, ce l'hanno chiarissima questa cosa, è da tanto che hanno cominciato a rendere la loro scuola sempre più partecipativa e già stanno crescendo, ormai sono già cresciute generazioni di gente che è diversa, è più autonoma, è più creativa, è più intelligenza emotiva. Mi veniva in mente una cosa, pensiamo nella politica, il Movimento 5 Stelle è nato attorno a un comico, Beppe Grillo e un imprenditore, hanno avuto un'idea di provare a creare una forza politica nuova che si basasse su presupposti completamente diversi, quindi tanti piccoli gruppi, autonomi che si muovessero, c'è un po' la metafora, lui ha usato la metafora di questa amebba, nel senso di tanti organismi pluricellulari dove le diverse cellule, le diverse componenti sono legate da qualcosa ma sono anche separate, possono stare anche in maniera separate, come un alveare alla fine volendo e si è basato solo su un'idea, quindi qualcuno forse l'ha chiamato anche capitale culturale, un'idea, la politica precedentemente era basata o su ideologie tradizionali oppure su partiti azienda, partiti legati alla ricchezza economica di una persona, quindi c'è quasi una nuova rivoluzione che si sta già attuando anche nella politica di un movimento basato su idee, su un'idea, quindi su una creatività nuova e questo lo vediamo anche, almeno noi cerchiamo di applicarlo, cercare di usare della creatività, dell'idea per arrivare a portare informazioni in un sistema bloccato, l'informazione in Italia non è ai primi posti del mondo, anzi per libertà di stampa siamo a 84esimo, adesso non mi ricordo esattamente, però non siamo per niente messi bene, quindi in un sistema molto bloccato, in un sistema molto controllato portare informazioni a bisogno di creatività, allo stesso modo in un sistema bloccato da interessi contrapposti, interessi corporativi, interessi industriali, fornire delle soluzioni che possono cambiare il sistema, farlo evolvere verso maggiore tutela del bene di tutti, del bene comune, ha bisogno di creatività, ci vogliono proposte creative che possono cambiare un sistema complesso e quindi c'è proprio bisogno di riformare il modo in cui pensiamo e il modo in cui siamo formati. Sì, c'è anche bisogno di ricominciare a pensare perché questo è un paese colonizzato culturalmente, questa è una bella fetta del problema, colonizzato culturalmente dagli Stati Uniti, tutte le ricette anticrisi che sono state applicate in questo paese, un po' in tutta Europa per la verità, sono tutte importate dagli Stati Uniti e vennero cominciate lì negli anni 80, tagli alla spesa pubblica, negli anni 80 Reagan tagliò la scuola pubblica, la distrusse negli Stati Uniti, tagliò la sanità, tagliò le pensioni, non so se ti ricorda qualche cosa, rese il mercato del lavoro molto più flessibile, non so se ti ricorda qualche cosa, 30 anni dopo tutta questa roba ha cominciato ad arrivare anche da noi, questo è il segno di una colonizzazione culturale profonda e di gente che non pensa, perché noi sappiamo che queste ricette non funzionano, abbiamo visto il disastro che è successo negli Stati Uniti dal punto di vista sociale, dal punto di vista del benessere. Pensa alla Confindustria italiana, che ha appoggiato in tutte le maniere la flessibilizzazione del mercato del lavoro, ma la forza industriale italiana è sempre stata l'abilità della forza lavoro, una forza lavoro operaia che era capace, che aveva notevole formazione quasi al limite dell'artigianato, una forza lavoro operaia che erano quasi artigiani da quanto erano bravi, ma la gente impara bene il proprio lavoro, imparare bene il proprio lavoro vuole dire investire nel proprio lavoro e se il posto di lavoro è estremamente incerto e precario, non investi nel tuo posto di lavoro, questo è il motivo per cui paesi come la Germania per esempio, che hanno un profilo simile, nel senso che la loro forza industriale è molto basata su un forza lavoro molto formata, non si sono mai sognati di flessibilizzare il mercato del lavoro nell'industria che è la loro forza. La colonizzazione culturale della Confindustria italiana invece ha portato a sbandierare, a prendere nel cavallo di battaglia la flessibilità del posto di lavoro che praticamente vuol dire libertà di licenziamento, non rendersi conto che questo andava completamente contro gli interessi italiani, c'è un problema di colonizzazione culturale in questo paese che richiede di ricominciare a pensare e di farlo in modo creativo. Peraltro distrugge ulteriormente la felicità delle persone, perché non avere una prospettiva, non sapere che cosa ti può succedere da un momento all'altro e voglio dire, magari può funzionare al momento dei primi anni di lavoro, nella formazione, qui c'è anche magari il piacere di fare tante esperienze, di provare, però crea un'incertezza di fondo. E che deprime la felicità, noi sappiamo che la gente con posti di lavoro precari sono meno felici di gente con posti di lavoro più solidi, la precarietà è un grosso problema dal punto di vista del benessere, quindi non funziona. C'era un altro tema se non sbaglio di cui parlavi nel libro che era la pubblicità, utilizzata come strumento culturale, forse poi lo strumento di colonizzazione culturale di fatto, nel senso con la pubblicità, con il modo di linguaggio della televisione, così tu crei un'immagine nelle persone a cui poi bisogna aderire, bisogna rispondere, crei delle aspettative, crei dei desideri e poi anche quello che può renderti felice o infelice. Guarda, la pubblicità ha un enorme impatto sulla gente, su questo convergono tutti gli studi sulla felicità che vengono fatti in tutte le scienze sociali, è un impatto che noi non percepiamo, ma è molto più grande di quello che possiamo immaginare, la pubblicità cambia le nostre percezioni, i nostri valori, le nostre relazioni, il nostro benessere, il problema è che la pubblicità manda letteralmente un messaggio esistenziale, sottile. Se tu hai un problema, se ti senti a disagio, se hai paura di essere escluso, di non essere socio di questa società, la soluzione è comprare, compra di più e risolverai i tuoi problemi, starai meglio e la soluzione è a qualunque tuo problema, questo modifica profondamente nel lungo andare la mentalità della gente e lo fa fortemente sugli adulti e lo fa molto più fortemente sui bambini, gli studi dimostrano l'estrema vulnerabilità dei bambini alla pubblicità, cambia veramente i loro valori, il loro modo di pensare e le loro priorità nella vita. Che è dove anche stanno investendo di più attualmente, per aver letto che si investe sempre di più nella pubblicità per i bambini. È la fetta più grossa del mercato pubblicitario, anche questo è incredibile, la maggior parte dei soldi vengono spesi in pubblicità nel mondo, sono diretti a bambini e adolescenti e il motivo è proprio quello che ti dicevo prima, sono più vulnerabili alla pubblicità, sono più influenzabili, i pubblicitari lo sanno perfettamente, l'hanno capito e dagli anni 80 ad oggi la spesa pubblicitaria diretta ai bambini è cresciuta dai 150 volte ed è diventata la parte più grossa del mercato. Ci sono frasi famose di pubblicitari per bambini che dicono la pubblicità quando è fatta bene fa sentire alla gente che sono dei perdenti, lo scopo della pubblicità è creare un disagio e questi dicono che questo tipo di pubblicità diretta ai bambini è più facile da fare perché i bambini sono più vulnerabili al senso di esclusione, quindi è più facile farli sentire a disagio, un disagio che può essere risolto comprando un prodotto, questi pubblicitari dicono che la pubblicità quando è fatta bene ti fa sentire un perdente se non ti compri un prodotto, ti fa sentire uno sfigato dicendolo in italiano, perché perdente è la traduzione di loser, ma loser veramente è lo sfigato, quindi la pubblicità è un prodotto estremamente pericoloso che dovrebbe essere maneggiato con cautela. E anche qua ci sono paesi che hanno fatto meglio, hanno cercato di controllare? Tutti hanno fatto meglio dell'Italia, nel senso che noi praticamente non abbiamo regolazioni della pubblicità ai bambini, il minimo che gli altri paesi hanno è che non può infilare pubblicità nel mezzo a un programma televisivo per bambini, molti paesi hanno limitazioni del tipo che non solo non puoi mettere la pubblicità in mezzo, ma non lo puoi mettere nemmeno all'inizio e alla fine del programma, da noi non c'è niente di tutto questo, i programmi sono zeppi di pubblicità per bambini nel mezzo al programma, poi ovviamente ci sono i casi quelli di provvedimenti drastici che sono quelli che funzionano veramente, in Svezia hanno proibito la pubblicità diretta ai minori di 12 anni, cioè in pratica in televisione non si può pubblicitare giocattoli in pratica, cosa che è stata fatta anche in Norvegia, insomma questi provvedimenti funzionano, quello che dovremmo, e rendono la gioventù meno consumista, meno ossessionata da comprare. Ci sono dei dati che correranno queste iniziative a degli effetti sulla felicità. Sì, e poi ci sono i dati sperimentali che sono spettacolari, hanno fatto un esperimento negli Stati Uniti in cui hanno ridotto l'esposizione televisiva di bambini di 8-9 anni, ridotto nel senso che vedono meno ore al giorno, non zero, ne vedo meno, il risultato è che dopo 3 mesi le richieste di acquisti di giocattoli ai genitori calano del 70%, bastano 3 mesi meno in cui si è meno esposti alla televisione per avere un crollo degli acquisti dei giocattoli, forse questo ti può dare un'idea concreta di quanto funziona la pubblicità, di quanto pesa su tutto questo, certo che funziona. Un'ultima cosa ti volevo dire, sempre sulla pubblicità, un'altra cosa che potremmo fare è stratassarla la pubblicità, in modo da ridurne anche l'ammontare, è abbastanza spettacolare che in Europa siano tutti a caccia di nuove fonti di gettito fiscale, perché c'è una crisi fiscale più o meno generalizzata, in Italia si è pensato di tassare assolutamente tutto, sono aumentate le tasse su tutto, ma la pubblicità no, anzi la pubblicità gode addirittura di agevolazioni fiscali, ma come mai a nessuno gli viene in mente di tassare la pubblicità? E forse per quel controllo dei media di cui parlavamo prima? Forse per quel controllo dei media di cui parlavamo prima e forse anche perché i grandi insessionisti pubblicitari, quelli soprattutto che acquistano pubblicità televisiva, sono tutti grossomodo multinazionali e diciamo che grossomodo la grossa parte del panorama politico italiano ci tiene ad avere buoni rapporti con questa gente, non è solo un problema italiano. Perché finanziano le campagne elettorali, offrono prospettive di carriera a chi poi esce dalla politica e magari. E qui c'è un quadro abbastanza complesso che abbiamo fatto, nel senso abbiamo parlato di pubblicità, abbiamo parlato anche di lavoro, di come lavoriamo, di come veniamo formati, c'è anche questo tema che leggevo nel libro appunto dell'orario di lavoro, nel senso quando si lavora troppo non c'è abbastanza tempo per coltivare le relazioni, peggiorano la qualità delle relazioni e c'è il rischio poi che si debba comprare cose che altrimenti una società, una comunità poteva offrire. L'ultima domanda che vorrei fare è come lo cambiamo questo sistema. Possiamo fare alcune proposte, l'altro giorno Luigi Di Maio con alcuni dei nostri era a Copenaghen a incontrare sul tema dell'energia degli esperti locali e anche delle persone nell'ambito della politica che fanno proposte nella direzione e delle direzioni di cui stiamo parlando. C'è bisogno certamente di copiare, andare dall'altra parte in posti dove si sono messe in atto politiche differenti e vedere le cose migliori e portarle di qua. D'altra parte però c'è anche da lavorare in qualche modo nella società, in qualche modo cambiare un approccio, per esempio nella politica c'è molta, c'è molto distacco dalla politica, c'è molta, forse una depressione di fondo che porta a non avere fiducia più in nulla e quindi quello che ha cercato di fare il Movimento 5 Stelle è stato riavvicinare le persone all'azione politica, inteso come lavorare per il bene comune, quindi indurre le persone a riavvicinarsi, a prendersi cura di quello che gli sta attorno, invece che chiudersi in casa, disinteressarsi, lamentarsi, arrabbiarsi col mondo intero, compreso il vicino con cui sei in causa, invece che cercare di instaurare relazioni positive, quindi in realtà io credo che sia un'occasione quasi, uno strumento, uno strumento per ricostruire la comunità. La domanda è se questa è una strada che può funzionare, se secondo te è uno strumento che può funzionare, noi oggi siamo una forza politica che è cresciuta, abbiamo delle proposte innovative, andiamo penso in molti casi nella direzione di cui stai parlando, abbiamo parlato di scuola, noi abbiamo delle proposte in quella direzione, abbiamo parlato di pubblicità, c'è una proposta di Fico, di Roberto Fico riguardo la regolamentazione della pubblicità per bambini, quindi io penso che molte di queste cose noi le abbiamo fatte, il punto è come parlare alle persone e come creare questo cambiamento nella società, hai qualche suggerimento da darci, qualche idea? Questa è una super domanda, richiedebbe un po' di tempo, quello di cui in realtà stai parlando si chiama postdemocrazia ed è la tendenza delle democrazie moderne a diventare totalmente dipendenti dal denaro, perché i costi delle campagne elettorali sono esplosi, i partiti hanno bisogno di soldi e quindi l'attenzione dei partiti verso i grandi finanziatori è molto cresciuta progressivamente e forse si potrebbe anche sintetizzare questa cosa dicendo che i partiti sono diventati in gran parte comitati d'affari. Quindi il problema è questo, molta gente è convinta che le cose si possono cambiare cambiando le scelte individuali, uso meno la macchina, allevo i miei figli in un modo diverso, queste scelte qui possono produrre effetti mal limitati, perché quello che va cambiato radicalmente è l'organizzazione economica e sociale e per fare questo bisogna passare dalla politica, questo lo dico perché molta gente si illude che siccome la politica non funziona possa essere bypassata e si possa trovare un altro modo per cambiare le cose, non c'è alternativa a passare dalla politica, perché è l'unico strumento che abbiamo per cambiare l'organizzazione economica e sociale, tutto quello che ti ho detto sono cambiamenti profondi all'organizzazione sociale, quindi non c'è un altro modo, poi il punto è come… Però d'altra parte dovrà anche passare dai cambiamenti dei comportamenti individuali, sono due facce penso, dall'alto e dal basso, dalla politica e dal comportamento individuale che devono trovare un punto di incontro. Sì, è chiaro, ma il problema è questo, io posso usare meno la macchina, ma se non ho un mezzo pubblico che me la sostituisca, diventa un incubo rinunciare alla macchina e il mio contributo individuale che è piccolo, un contributo positivo, è costosissimo per me, diventa un problema enorme, quindi va cambiata l'organizzazione sociale se vuoi anche indurre un cambiamento massiccio dei comportamenti individuali e per fare questo non si può non passare dalla politica e non si può non passare da una rottura del meccanismo della postdemocrazia, cioè creare delle forze politiche che non siano dipendenti dai grandi finanziamenti. Quello che abbiamo fatto noi, cercando di fare un sistema che si finanzi da solo, con le micro donazioni e cercando di togliere il denaro, basandosi sul volontariato, quindi sulla volontà, sulla creatività dei cittadini. La vostra idea di base è di togliere i soldi dalla politica, di fare anche in modo che non ci sia più un modo di diventare ricchi con la politica, che è quello che ha corrotto tutto, è chiaro che questa è una buona idea ed è altrettanto chiaro che questo è il problema, quindi non c'è un altro modo di sfuggire a questi meccanismi se non creare delle forze politiche che ragionino un'altra logica, non quella del raccattare grandi finanziamenti dai grandi finanziatori. Da questo punto di vista non sono d'accordo nemmeno su tutto quello che proponete, perché il finanziamento pubblico ai partiti è uno strumento chiave per evitare che i partiti diventino schiavi del denaro dei finanziatori privati, io quello eviterei di toglierlo. Secondo me il meccanismo chiave per riportare la politica a fare gli interessi della gente comune è bloccare le spese dei partiti, mettere tetti bassissimi alle spese dei partiti, in modo che i partiti anche se riescano a raccogliere tanti finanziamenti non li possono spendere e questa regolamentazione dovrebbe riguardare soprattutto le campagne elettorali che dovrebbero essere impedite di usare strumenti costosi tipo gli spot televisivi che sono costosissimi, le campagne elettorali andrebbero fatte usando il web, usando i militanti, convincendo la... Infatti di fatto noi che facciamo questo abbiamo costi bassissimi e non abbiamo bisogno né del finanziamento pubblico, al massimo se facciamo un evento abbiamo bisogno di un finanziamento diffuso pubblico, pubblico dei cittadini, però funziona. Diciamo, se questo basta, se voi ce la fate a fare quello che volete fare... Se non ce la fai forse vuol dire che la tua proposta non è abbastanza interessante per il paese in cui stai. Appunto, e se ce la fate vuol dire allora che il finanziamento pubblico può essere veramente abolito, a quel punto. Poi il punto è che c'è stato un referendum, è vero anche che arrivava in un momento in cui c'era una sfiducia molto alta verso la politica, però è vero che il referendum è lo strumento di democrazia diretta che abbiamo in Italia è più forte e quindi non rispettarlo sarebbe scorretto. Poi quello che succederà in futuro se il sistema cambierà, questo non lo so, ma oggi noi abbiamo rispettato la volontà dei cittadini italiani. Sì, in questo momento sono d'accordo e non si poteva fare altro, quindi non vedo molte altre alternative insomma. Grazie, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, speriamo di approfondire un po' questi temi ed è molto interessante perché spesso parliamo di crescita, si parla tanto di crescita, c'è proprio un martellamento sul concetto di crescita e non ci viene spiegato né di cosa, cosa deve crescere e soprattutto non ci viene spiegato se questa crescita ci serve e ci dà qualcosa di positivo perché dipende anche non soltanto dalla quantità ma spesso dipende dalla qualità di quello che cresce e di come cresce. Quindi grazie professor Bartolini e saluti a tutti.